2 novembre Genova giornata coperta ma clima di nuovo mite come in estate in mattinata preso schizzi della cattedrale bellissimo l'effetto dei veli nell'inginocchiarsi donne che nel bel mezzo delle loro preghiere si giravano a lungo a fissare ma con assoluto distacco senza lanciare occhiate le brutte perlomeno poi qualche splendido canto liturgico togliendo e rimettendo per tutto il tempo un cappello da cardinale all'arcivescovo di Genova che ha un bel volto ma è vecchissimo e debole il vaso verde smeraldo un falso anche più falso di quanto avessi immaginato misero vetro di nuovo a disegnare sul molo tratto caratteristico dei portici che corrono lungo l'intera città bui come la pece e sudici e in alto madonne in tutti gli angoli per tutta la città questa è una cosa che colpisce al di sotto dei portici angoli di linea squisitamente morbida ricchissima di ornamenti con piccole immagini delicate e immagini sopra quasi tutte le porte qui le strade strettissime mancano di effetto bianche con semplici finestre quadrate di tanto in tanto una caditoia che sporge o un bello stipide di marmo tutto arabbescato ma niente di sontuoso sulle facciate vere e proprie dopo cena a passeggio alla porta orientale trovato un lungomare affollatissimo una ressa tale da impedire a tratti il passaggio costretto a fermarmi perfino tutti veli bianchi e un immenso contrasto tra gli uomini e le donne spesso una signora ben vestita o qualcosa di apparentemente tale appoggiata al braccio di uno sciatto ciabattino con un'aria da vagabondo moltissimi begli occhi e labbra ogni tanto ma niente altro brutto incarnato tutte la folla mi ha trasportato alquanto fuori città fino alla riva del fiume una veduta avvincente gli appennini belli nella forma e considerevolmente aguzzi la città le falde in bianche masse che digradavano giù per i pendii e la folla velata che fluiva dalla porta orientale con moto rapido e mormorio costante il crepuscolo è sceso improvviso nel tornare sui miei passi visitato una delle chiese suburbane l'interno completamente buio ma luci intense cadevano dall'altare sulla folla inginocchiata due o tre gruppi di bambini nelle cappelle laterali dalle luci meno intense un coro di nobili voci dietro l'altare cantava una messa per i defunti la cosa più perfetta cui abbia assistito finora poiché non vi era niente di ridicolo o di urtante a rompere l'incanto non sarei più uscito da quella chiesa sebbene stesse calando la notte ma non faceva affatto freddo e sono tornato lemme lemme verso casa senza pastrano come difficilmente mi sarei arrischiato a fare in un crepuscolo d'agosto inglese la cosa che più colpisce di questo luogo è l'ampio respiro di ogni suo aspetto e la dovizia di marmi le chiese tutte nello stesso stile abbondanza di barbaro abbastro pur sempre imponente infinita ricchezza e grande potenza della mente sia pure un po malata del suo agire tuttavia la cattedrale all'esterno è orribile sopportabile il portico in un grazioso alternarsi di marmo bianco e nero ma la parte superiore di pessimo gusto tutta strisce come una zebra detestabile sempre meglio di orleans tuttavia brutta soltanto ma non volgare molto imponente l'interno il bianco e nero confinato a coronare due file di archi bassa e a tutto sesto la superiore su piccole colonne corinzie l'inferiore ogivale con grandi capitelli corinzi e colonne di marmo rosso tra gli archi nervature nere ma c'è ben poca luce per cui non disturbano sopra l'altar maggiore un gruppo bronzo di grande potenza dietro finestre di un cupo cremisi cinque rotonde e la parete fra l'una e l'altra riccamente scolpita la chiesa dell'annunciazione colpisce per il soffitto affrescato e per le colonne di marmo bianco scanalate in rosso